Dobbiamo raggiungere quanto prima la comunione nella legittima diversità, un dono sospirato che può venire solo dallo Spirito Santo e che dobbiamo perseguire attraverso la preghiera costante, la conversione interiore, il rinnovamento di vita e il dialogo fraterno. E quanto si legge nella dichiarazione congiunta firmata a Gerusalemme da Papa Francesco e Bartolomeo I. A 50 anni dallo storico incontro tra Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora, il Pontefice durante il suo secondo viaggio internazionale in Terra Santa ha pregato al Santo Sepolcro con il Patriarca di Costantinopoli, ribadendo il dovere di offrire una testimonianza comune all'amore di Dio verso tutti, collaborando nel servizio all'umanità, specialmente per quanto riguarda la difesa della dignità della persona umana in ogni fase della vita e della santità della famiglia, basata sul matrimonio, la promozione della pace e del bene comune e la risposta alle miserie che continuano ad affliggere il nostro mondo. Con noi l'archimandrita Nathanel Simeonides, direttore dell'Inter-Orthodox Ecumenical e Inter-Faith Relations. Ritengo che se riusciamo a sconfiggere l'Io, riusciremo anche ad eliminare quel senso di superiorità che ci fa sentire sempre nella verità e gli altri nel torto. Penso che questo sia l'ostacolo più grande. Penso che il mondo abbia un disperato bisogno di una voce cristiana unita. Credo sia uno scandalo per la Chiesa essere frammentata, che vi siano diverse denominazioni. C'è un unico corpo di Cristo. Dobbiamo superare le nostre differenze, soprattutto la Chiesa cattolica ortodossa, perché solo con una voce unita possiamo fare la differenza nel mondo. Il dialogo teologico, si legge ancora nel testo, non cerca un minimo comune denominatore teologico sul quale raggiungere un compromesso, ma si basa piuttosto sull'approfondimento della verità tutta intera che Cristo ha donato alla sua Chiesa. Gli ortodossi riconoscono il Papa come primo. Roma è stata la prima Chiesa e il Vescovo di Roma è sempre considerato come il primo Vescovo. Ma come si relaziona con gli altri Vescovi? Nella Chiesa ortodossa abbiamo un sistema collegiale. Anche la Chiesa cattolica ce l'ha, ma noi mettiamo maggiormente l'accento sulla collegialità rispetto alla Chiesa cattolica. Di qui la difficoltà, la sfida di comprendere il concetto del primato del Papa, il suo ruolo e come si colloca rispetto agli altri Vescovi. Oltre a esprimere preoccupazione e solecitudine per la questione ecologica, nel documento Papa Francesco e Bartolomeo I si fanno prossimi ai cristiani in Medio Oriente e a quanti soffrono per l'intolleranza religiosa e per tutte quelle forme di insensata violenza. La persecuzione dei cristiani non è certo una novità. Dalla Chiesa delle origini, sin dai tempi di Gesù, Gesù stesso è stato crocifisso e il Santo Stefano è stato subito il primo martire. Sappiamo che la Chiesa è stata fondata sul sangue dei martiri, che si sono levati per la loro fede in Cristo. Però recentemente questa persecuzione ha vissuto un'escalation, soprattutto in Medio Oriente, anche in Asia sudorientale e in Africa, ma nel Medio Oriente è diventata una persecuzione molto forte, che si è intensificata. ma nel Medio Oriente è un'escalante persecuzione.